Perché Lughe è Lughe, 43 servizi Se poi qua fa così, io poi qua non ci passo più Ok Fantastico Rompiamo qua, che tanto non ci interessa Poi abbellisco dopo E l'acqua, l'acqua è l'entrata o l'uscita? L'entrata Eh, il rosso è l'entrata Sì Dovrebbe, vediamo un po' Trovo un po' a collegarlo Vediamo un po' Vado, vai Zero Zero di zero Adesso? Ok, è entrato Allora è quello blu Perfetto Perfetto E abbiamo portato l'acqua Si è riempito bene l'acqua? Eh, sì, tutta L'ho fatta tutta? Completamente tutta Oh Sì E di qua esce Perfetto ragazzi Adesso vogliamo portare dentro lo Yellorium Eh, questo è un problema Eh Ora lo Yellorium bisogna portarglielo dentro Dobbiamo fare un paio di Ender Chests Ok ragazzi, mi serve anche uno Storage Ok, abbiamo tutto forse Vieni con me Chip Tutto Vai Dovrei andare fuori adesso Dal controller Portargli Qua sopra qualcosa Allora Se io scavo qua per esempio, no? Sì Non sono neanche così tanto lontano Pensavo peggio Devo prendere un blocco Dal controller da solo Il controller è qui Il controller è qui Devo fare una porta qua Allora Io non ce la faccio con 30 Me ne porto via Questi qua Ok Devo un po' che provare a portarli su Eh, fino a qua Sì Ok Un po' Ah, sbagliato Così ce la faccio Eh A portarli su Senza fare danni Facciamo così Dai Ok Ok Dai che ne la fai Devo arrivare là Eh Anche qua Puoi arrivare Va bene Sì ma Non niente Arrivo lì Arrivo lì da qui Mi vedo che ce la faccio con i tubi La fai? Ok sono arrivato Boom Ice Le sto arrivando ne? Vai vai Eccomi qua Non so quanto era lungo sto video Lo dividero in due Allora qua ci mettiamo una cesta Mi vuoi fare una cesta? Ci per favore Sì Una cesta Sì Dobbito Gli mettiamo Anzi Sapete che faccio? Faccio doppio Un po' che provare così Ok così E non si collega Perché? Ok In poche parole Perché qua li mettiamo Lo storage Lo storage ragazzi Io ho messo l'export Va bene L'export tanto è quello che esporta L'ambianto E lo storage sotto Lo storage ragazzi Fa risultare All'ME Tutto ciò che c'è All'interno di quell'inventario Ossia una cesta Piuttosto che qualcos'altro Metti la cesta Ok Va bene Sì vabbè Uguale Uguale cavo Devi farla un po' meglio Ecco La vuoi di ferro? Ho sbagliato Qua devo salire di uno Oh Eh vabbè Eh no vabbè niente Devo salire di uno Allora Intanto qua bisogna collegare Intanto qua Bisogna collegare Bisogna salire Qua li ho messo l'import E lo storage E qua la cesta Ok 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 Ora mi vuoi prendere Un oglio l'orium Per favore? Sì Gli mettiamo L'oglio l'orium Qua Come arrivo Ora dovrebbero arrivare Nella cesta Eccoli qua Poi li metteremo Qualche acceleratore Eccetera eccetera Adesso bastano Perché arriva pure il carbone? Perché cazzo arriva il carbone? Scusami Ma che cazzo Succede? Ma perché è arrivato il carbone? Ma che sta succedendo? Ok Dovrebbe funzionare Perché cazzo arriva il carbone? Ok ragazzi sta entrando Eccolo qua Tutto l'orium che arriva Il problema è che questo l'orium E' esporta dall'impianto Entra qua dentro E l'impianto non lo legge più Se ora vai giù chip Al monitor Ti dice che ce n'è zero Vuoi vedere? Andiamo un po' a vedere Arriva eh Immediatamente E' per quello che ho messo L'M storage bus Il problema Che mi va in conflitto Col carbone Sì È vero Zero vero? Sì Zero Ora sai che faccio? Io lo metto dall'alto Andiamo un po' eh Andiamo un po' Se si bug ancora Adesso Te lo legge? Eh un attimo che sto sopra io Sono venuto sopra io Il carbone non sta più entrando Allora qua Sì me lo legge 650 Adesso? 600 458 Ok aspetta Io adesso provo a ributtarlo all'impianto Vediamo se me lo rimanda qua Dimmi se aumenta eh 500 Ok perfetto funziona Niente allora Se era buggato l'avevo messo sotto Forse non va sotto Vabbè comunque Ragazzi abbiamo portato E a casa in alto qua Lo Iellorium Che a noi serve Ora lo Iellorium Lo buttiamo Chi drento Chi Ok come? Grazie a queste cose qua Tranquillamente Facciamo così Una cosa così Ambress Ambress Facciamo extract Sempre Voilà Dobbiamo portarlo Qua sopra Nel verde No? Nel azzurro? No nel verde Iellorium va nel verde L'azzurro è quello Già fatto Quello consumato Insert Facciamo così Dall'alto Sempre così Non diamo fastidio A niente A nessuno Ok Ragazzi lo so che è tutto brutto Esteticamente Ma sinceramente a me piacciono Tutti questi tubi Proprio Yep Facciamo Extract Con il rosso Extract Con il rosso Mi dai una chest Chip? Un'altra Reserve Yes Sempre di ferro A voi E un import Questa volta ragazzi Li mettiamo l'import Perché vogliamo importare Nell'impianto Tutto ciò che c'è Nella chest E nella chest Guarda caso Colleghiamo qua Li mettiamo Insert Il rosso Perché il rosso È collegato con il rosso qua Va nello stesso tubo Ma cambiano i colori Cambia la frequenza Ok ragazzi Ora La L'Oilorium Andato dentro Nel reattore Eccetera eccetera Diventerà cianite La cianite uscirà E la rimporteremo Nel nostro impianto Fantastico Wow E siamo già a cavallo Con le armotte Ora A noi serve Che fuoriesca lo steam Lo steam Lo vorrei far uscire Con i tubi Quelli potentini Che sono quelli della thermal Mi sembra Però aspetta Anche l'enderaio Enderaio Vediamo un po' Ah quei tubi Belli puttendi Puttendi Che fanno uscire Fino a 800 millibucket Mentre quelli della thermal Che abbiamo usato Nel server Il chip Ah quelli lì Quali sono Aspetta Thermal Erano i Eh va te la ricordo Va te la pescati Questi qua I lux tutti No Ok ragazzi Guardate Facciamo gli hardened Dopo aver fatto gli hardened Facciamo i super Questi qua I super laminar fluidact Sono della thermal Sono fantastici Perché non dice Quanto Quanto millibuck ti portano Ma dicono Che il transfer È immediato Per cui è quello che serve a noi Meglio Lo abbiamo usato anche nel server Sono fantastici Quanto ne vengono? Sette No 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 Cosa manca? No non ti basta Manca il bronzo Ma chi manca il bronzo? Non manca un cazzo Ma dai ma fallo subito Ma dammi sto bronzo Eh dammi sto bronzo Eh dammi sto bronzo Eh dammi sto bronzo Eh dammi sto bronzo Nooo Ah no Dammi sto bronzo Dai Neh neh Manca lo bronzo Mi dice quello Neh Come ti permetti Oh te l'ha detto eh Come ti permetti 17 No 17 portato Dammi la bronzo Dammi del bronzo Dammi la bronzo 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 Guardate che non so se 17 ti bastano eh Bronzo Ma infatti ne faccio altri Aspetta Chi l'ha detto 17? Ma te Vieni qua Oh eccole Quanto ne hai fatto? 29 Ah dillo 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 Diamo 29 Guardate qua Che sta diventando sta serie raga Che sta diventando Allora Ora abbiamo gli stronzo lì qua Bam Ah si collega sopra Oh Io non voglio E poi questo qua ragazzi Lo collegheremo A tutte le nostre bobine Dall'alto Ora chip Noi abbiamo 12 cose qua Allora quanti sono? Uno qua? No ho sbagliato un buco? Allora aspetta Ok ragazzi Ho venduto Non so quanti diamanti Per fare i tubi Perché non mi bastavano Andiamo qua Adesso facciamo veloce Colleghiamo questi qua Qua sotto mancano Ancora le fornaci Che ora Andremo a mettere Fantastico A mettere Perfetto Tutto collegato Ragazzi ora il problema Che io non ho provato In single player Non lo so Questo reattore Mi manterrà ben 20 fornaci attive Con lo steam Il problema è provare Accendiamo chip Vai accendi Accendiamo chip La accendi Chip lo sto accendendo Accendila Chip lo sto accendendo Vai accendila Acceso chip Barone Aia non ce la fa l'acqua Spendi Azzo Ah non gliela fa Non gliela fa l'acqua Non gliela fa l'acqua Niente altri tre Transfer node Ok ragazzi Mi serve un servo E Bambambam Chip fa i potenziamenti Ragazzi Abbiamo trasformato tutto Allora In poche parole Non ce la fa l'acqua Ho dovuto mettere Quest'altro tubo Ok Che fa un giro Della madonna Anzi qua mancava un tubo Ok Ho craftato gli altri Fa un giro Della madonna Lo so Ma non mi interessa Qua abbiamo messo Ben 4 Transfer node liquid Con i vari potenziamenti Che ora chip Sta facendo Che vanno dentro Questo bel drum E qua li mettiamo Il servo Per far fuoriuscire L'acqua Yes Ok Ora l'acqua Dovrebbe arrivare Sufficientemente Però Bisogna vedere Se ce la facciamo Con i potenziamenti Ma nello che vada Potenziamo Il problema era Ragazzi Il problema Sapete qual era Porca boia Trota ladra Era qua Questi tubi Fanno schifo Portano poca acqua Guardiamo se 4 Ce la fanno Ragazzi Se noi chiudessimo Qua Guardate Questo qua Non ci uccerebbe più acqua Adesso ce l'ha Perché ce l'ha Però non ci uccerebbe Bisogna mettere l'acqua Anche i lati Perché bisogna fare Proprio creare La formula infinita Perfetto Così è il designer Perfetto Per ciucciare acqua Ok brutto dirlo così Ragazzi però Mancano solo i velocizer Abbiamo craftato Eccoli qua Arrivano Oh io provo a pizzicare Vai pizzica Appizzico Vai appizzica Vedi un po' Ho appizzicato Minchia l'acqua rimane Attenzione Aspetta 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 Minchia faccio un buato Fuori dalla finestra Faccio Minchia lo faccio Minchia lo faccio Ragazzi l'acqua rimane Veramente Veramente L'acqua rimane Rimane Allora l'acqua rimane Rimane l'acqua Ce l'ho fatta Adesso il tuo cane Chiudi la palla Aia Eccomi Oh rimane l'acqua E adesso il problema è Ce la farà Il nostro amico boiler A mantenere tutti I nostri Venti E dico Venti Venti Sì Venti Lu Venti Non ho capito Se sto laggando io O il reattore Che fa laggare Madonna 4.000 gradi Sì 4.000 gradi Porca Quanto io e l'olimo Stavo consumando Aspetta un pochino Dei pannocchie qua Eh perché Che tazza sta roba qua Eh Oh visto un cianito Che se ne andava Ma l'hai messa tu Sta roba qua dentro No ti giuro Ma vuoi dire Che allora Quando io Metto qualcosa Nelle meme Finisce lì Ora un po' Vediamo No 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 Per sbaglio Le appoggiate io Le appoggiate Ragazzi Madonna Funziona 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 E ci vediamo E ci vediamo Il prossimo episodio Un bello Un abbraccio Ci vediamo Il live Vi ricordate Il live Vi aspettiamo Ragazzi Un bacione Un abbraccione Da Luke Ci potuto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti